C'è un sovvertimento del rapporto tra universalità e risorsa del desiderio sessuale, che nel secolo va ben oltre ciò che Freud aveva intravisto, ma che tuttavia aveva annunciato con l'implacabile vigore del logico delle pulsioni. Non c'è dunque da stupirsi che un uomo così inflessibile circa le esigenze del pensiero si sia ben presto reso conto del pericolo al quale le esistenze della normalità esponevano la sua impresa. Lo testimonia questo brano dell'Uomo dei lupi 1918. Nell'attuale fase della lotta intorno alla psicoanalisi, la resistenza contro le scoperte psicoanalitiche ha assunto, come noto, una forma nuova. In passato ci si contentava di contestare la veridicità dei fatti asseriti dalla psicoanalisi, e a tal scopo la tecnica migliore sembrava quella di evitarne la verifica. Sembra che a poco a poco questo procedimento si stia esaurendo. Oggi si batte la strada nuova di riconoscere i fatti, ma di eluderne le conseguenze per mezzo di interpretazioni distorte, che ottengono ugualmente lo scopo di tenere a bada le novità che non sono gradite. Lo studio delle nevrosi infantili prova l'assoluta inadeguatezza di questi superficiali o arbitrali tentativi di reinterpretazione. Questo stesso studio rivela l'enorme funzione che, nello strutturarsi delle nevrosi, svolgono le forze pulsionali libidiche, la cui esistenza è così spesso contestata e consente di riconoscere la mancanza di qualsiasi aspirazione verso lontani obiettivi culturali di cui il bambino nulla sa e che pertanto nulla significano per lui. In questo testo Freud analizza una seconda ondata di resistenza alla psicoanalisi. Se in un primo momento a fare scandalo era il confronto tra il pensiero e l'ingiunzione sessuale, ora si sforza di spiritualizzare tale ingiunzione, di farne un fenomeno culturale. si pensa ovviamente agli archetipi di Jung, attraverso i quali l'elemento sessuale si trova di colpo formalizzato nella cultura. Freud denuncia questa sublimazione culturale come una resistenza appena più sottile. Bisogna assolutamente restare nel faccia a faccia con il sessuale e ricostruire senza paura né sotto i sfugi la scena in cui sono in atto le forze libinali. Fin dal 1918, quindi Freud, vede perfettamente la manovra, in seguito mai cessata, che consiste nel rinviare l'articolazione del desiderio e del suo oggetto a un senso precostituito della cultura, nella mitologia e nella religione. Questa manovra consiste sempre nell'introdurre il senso al posto della verità, a iniettare il culturale nella libido. È la manovra ermeneutica e Freud ha subito capito che vi si nascondeva un'insidiosa negazione della sua scoperta e che, insomma, bisognava tornare al sesso nudo e alla sua radicale assenza di senso. Freud, questo grande spirito materialista, sapeva anche che si trattava della lotta contro la religione, della forma moderna di tale lotta, della forma richiesta dal nostro secolo. Ciò che spaventa la religione non è l'importanza del sesso. Al contrario, i padri della Chiesa la sanno lunga sul sesso, sulle sue perversioni, sui suoi effetti, e sono gli ultimi a sottovalutarne l'importanza. Ciò che li spaventa è che il sesso possa comandare una concezione della verità separata dal senso. La cosa terribile è che il sesso sia ribelle a ogni donazione di senso, mentre per la religione è una questione vitale il poter spiritualizzare e dunque far significare il rapporto sessuale. Sull'argomento del sesso, del senso e della verità, Freud ha impegnato il secolo in una grande battaglia, che Lacan ha presentato come una grande battaglia tra religione e psicoanalisi. La posta del conflitto è sapere se il sesso abbia un senso, o, per parlare come Lacan, se nel sesso esista qualcosa di ragionevolmente collegato, qualcosa come un rapporto sessuale, o se al contrario il destino soggettivo della sessuazione sottomette il soggetto ha una verità insensata, e se, come dice ancora Lacan, non esista rapporto sessuale. Più semplicemente, la funzione antireligiosa, del faccia a faccia, pensiero-sesso, sotto il segno della verità è che esso sottrae il discorso sul sesso alle pretese della morale. Tale sottrazione equivale a una rivoluzione di così vasta portata da dubitarne che il secolo sia riuscito a realizzarla. Certo ha estirpato il sesso dalle figure più manifeste della moralità, ma lo ha anche demoralizzato, la morale può nascondersi sotto l'edonismo. L'imperativo Godi, oggi sbandierato da tutte le riviste per adolescenti, mantiene e aggrava le strutture sintetizzate dell'imperativo non godere. La rivoluzione freudiana che nel secolo ha scortato scortato l'intimo conflitto con la strutturazione religiosa del senso, è ora in sospeso, confrontata com'è a nuove modalità di soggettivizzazione sessuata, in cui la forma apparente, etero o omosessuale, femminile o maschile, attiva o passiva, nevrotica o depressa e via di seguito, ha meno importanza dell'angoscia causata dalla cosa innominabile, dissimulata sotto ogni godimento, e in particolare sotto ogni godimento obbligatorio. Come è noto fin dai tempi del Basso Impero, quando il godimento è ciò che ogni vita vorrebbe assicurarsi e che si pone come imperativo, ciò di cui si finisce inevitabilmente per godere è l'atrocità. È giunta l'era dell'oscenità generale, dei gladiatori, dei supplizi in tempo reale, che ci farà rimpiangere perfino le carnificine politiche del secolo defunto. È senza dubbio su questo punto che siamo ispirati dal coraggio mostrato da Freud nel ergere il pensiero e l'inalberare la logica di fronte a ciò che, anche se basato solo sull'innominabile, è non di meno un ingrediente inevitabile della nostra verità. L'aver saputo arrivare al reale del sesso, piuttosto che al suo senso, fa di Freud uno dei grandi eroi di questo secolo, uno di quelli che autorizzano a dire che questi anni, così spesso dedicati all'orrore e vana indifferenza dei particolarismi, non sono stati inutili a ciò che vi è di universale nel pensiero. Grazie a tutti.